L'altra voce Notizie Informazioni Dibattiti Parole ed opinioni Tante voci dalla tv L'altra voce, una voce diversa L'altra voce E' un programma di Remo Cristallo Con la partecipazione in studio di altri pastori evangelici della Campania Gentili telespettatori, eccoci alla terza trasmissione della serie Che riguarda appunto gli avvenimenti degli ultimi tempi Questa è la seconda che abbiamo voluto intitolare Ai segni degli ultimi tempi Beh, come sempre mi presento innanzitutto i servitori, i pastori In questa trasmissione Pastori Michele Romeo, Luigi Lopredo, Antonio Romeo, Daniele Bachman Michele Passaretti E passiamo al breve contributo Che ancora poi farà seguire le nostre domande Il Signore Gesù ha detto ai Suoi discepoli E ancora a noi oggi Che sarebbe ritornato per portarci nella casa del Padre Dove ha preparato delle dimore Il suo ritorno come Messia E' uno degli eventi profetici più descritti E più attesi nelle Sacre Scritture Essa delinea i vari eventi che ci aiutano a comprendere i segni del tempo Ognuno di essi informa il mondo E ci aiutano a comprendere se viviamo alla fine dei tempi Caro pastore Michele ti affido una domanda che certamente non è quella che ancora può rallegrare il nostro cuore Ma d'altronde questa è parola di Dio E la domanda è I veri credenti in Cristo saranno odiati da tutti Perseguitati, imprigionati e uccisi Diciamo Poserei dire purtroppo Ma ridiro il purtroppo Perché questa è una constatazione E soprattutto una dichiarazione del Signore Gesù Quale sempre Quando ha cominciato il suo ministero Contrariamente a quelli che oggi sono Quelli che cercano adepti in tutti i sensi In tutti i modi con bugie, con lusinghe Con promesse che poi risulteranno immancabilmente fasulle Il Signore non ha mai ingannato i suoi discepoli Quasi sembra che li avesse scoraggiati Perché ci ha sempre tenuto a dire in un modo preciso e chiaro Che quelli che lo volevano, che intendevano seguirlo Non se la sarebbero passata comoda E infatti ha detto Chiunque vuole venire dietro a me La prima cosa rinunci a se stesso Prenda la sua croce e mi segua E in tanti dei suoi discorsi ha avvertito Che nel mondo avrete tribolazioni, afflizioni Ma fatevi animo, ecco Perché poi alla fine la realtà della parola di Dio La realtà del cristianesimo e dei veri cristiani È vero che sono stati e purtroppo sono ancora oggi odiati Pur dovendo riconoscere Credo che questa sia una constatazione Che la si possa fare I cristiani mai si sono armati di armi veri Ma hanno fatto atti di terrorismo Ma piuttosto hanno subito e subiscono In modo particolare ancora oggi In tutto il mondo O in buona parte il mondo orientale Sappiamo quante persecuzioni Quanto cara costa la fede Tanto è vero che ci sono movimenti missionari Dove ci avvertono e ci fanno conoscere Dove la fede costa di più Rispetto a noi altri che viviamo nell'Occidente Cheppure abbiamo subito le nostre persecuzioni Grazie a di oggi non sono più Versazioni fisiche Imbrigionamenti Come ci sono state nel tempo del fascismo Ma la verità è che Non è che siamo tanto ben visti E ne è che siamo tanto bene accetti In qualsiasi campo E poi oggi si cerca sempre In qualche modo di creare ilarità Di prenderci in giro Però la cosa che a noi interessa Non tanto quello che è giudizio nel mondo E nemmeno le persecuzioni Oppure le vessazioni Perché ripeto Fanno parte del bagaglio del cristiano Sappiamo che Andiamo incontro a questa realtà D'altronde non possiamo essere differenti Da quello che il Signore ha detto e ha fatto Lui ha detto Se perseguiteranno me Perseguiteranno anche voi Odieranno me e odieranno anche voi E un discepolo non può essere diverso dal maestro Per cui insomma Quando Ciri veramente accetta la fede Il vero cristiano Non la religione cosiddetta cristiana Sa di andare incontro a queste difficoltà Perché il Signore è stato anche Molto diciamo Severo Nelle nostre relazioni con gli altri Appunto Chiedendoci di Precare per i nemici Di Se si trovano nel bisogno Dobbiamo aiutarlo Cioè togliendo Ogni possibilità di vendetta E di guerra Tanto è vero che Lo stesso Apostolo San Paolo Dirà che la nostra guerra È una guerra che viviamo Però non è una guerra Contro le persone Ma piuttosto Lo spirito che anima le persone E le potenze malefiche Che ci sono Nel corso Nell'aria Insomma in tutta Che gravitano intorno al mondo Ma la cosa che ci sostiene è questa Il Signore ha detto Io ho vinto E vincerete anche voi Io edificherò la mia chiesa E come sappiamo Il Signore anche se tante volte Si è cercato di distruggere Lui l'ha sempre riedificata E la riedifica E addirittura Passa al contrattacco Dicendo che le porte della morte Dell'Hades Della persecuzione Non riusciranno mai A vincere la chiesa di Cristo Per cui in questa prospettiva Siamo perseguitati E tormentati Però ci facciamo animo Perché siamo certi Che la vittoria Appartiene al Signore E la chiesa È trionfante Insieme a Cristo È in Cristo Gesù Siamo E saremo Più che vincitori È un'espressione Che viene dalla nostra fede E dalla testimonianza Della nostra fede E allora Luigi Ho una domanda Per te In questo momento Si verificherà Un crollo morale Della società Come troviamo In secondo Timotio 3.1.5 Certo Non devo Sforzarmi troppo Per convincervi Perché È sotto gli occhi Di tutti Il crollo Morale E spirituale Della società Dobbiamo dire Però purtroppo Che Tutte le volte Che è successo In maniera Molto grave Questo ha messo A dura prova La pazienza di Dio Che Non è infinita Dio ha molta pazienza Ma non in maniera Infinita E abbiamo Nella storia Della Bibbia Alcune analogie Dove anche La società Ha avuto Dei crolli Come ci sono adesso Forse un po' meno Ma Dove Dio Ha dovuto agire In una maniera Perentoria Cioè Ha dovuto fare Veramente Giustizia Perché Si era stancato Di sopportare Il crollo Morale E spirituale Di quelle epoche Parliamo Dei tempi Di Noè Dove la Bibbia Dice Che La gente Era malvagia E Dio Decise Di distruggere Quella generazione Parliamo Dei tempi Di Lot Dove Lo stessa Parola del Signore Dice Che Sodoma Era Scellerata E sappiamo Anche qual era Il peccato Predominante Che era Sodoma Qualcosa che si sta Verificando anche In questi ultimi tempi La sodomia Sappiamo Peccato però Che Ai tempi di Noè E questo succede Anche oggi Nonostante La società Fosse malvagia E nonostante Che Dio Avesse deciso Di distruggerla C'era un uomo Che predicava La giustizia E che faceva Un'arca Che sarebbe potuto Servire a tutti Quelli che volevano Salirci sopra Peccato che non Ci è salito nessuno Solo Noè Con la sua famiglia E con gli animali La stessa cosa Succede oggi Siamo in una società Che non ha più Punti di riferimento Una società Che non ha valori Si è perso tutto Non c'è più rispetto C'è un'immoralità Crescente Ci sono problemi Di ogni genere Non c'è Non c'è più Rispetto Verso nulla Eppure C'è un'arca Gesù Che ancora oggi Potrebbe salvare Dall'ira Perché La società Che crolla moralmente Poi porterà Inevitabilmente A subire Un giudizio E quindi In questi ultimi tempi Noi vediamo Che Questo crollo Della società Richiama Anche quello Che Gesù disse Che la sua venuta Si sarebbe Facendo questo Esempio Fece l'esempio Dei tempi di Noè E l'esempio Dei tempi Di Lot Siccome Nella società Odirna Ci sono tante analogie Con quei tempi Noi possiamo pensare Che la venuta Di Gesù Che è l'argomento Di cui stiamo parlando È vicina Bene E indubbiamente Abbiamo Ci stiamo rendendo conto Che stiamo vivendo Vogliamo dirlo Con grande certezza Siamo nei tempi difficili Che noi vediamo Non sappiamo Quando Ma sono I cosiddetti Ultimi tempi Della pazienza Del Signore Ma voglio continuare A fare una domanda Al pastore Antonio Romeo E andiamo su Apocalisse È vero Il libro Di Apocalisse Capitolo 13 E questa è una risposta Chissà quanti Chissà quanti Sono interessati In questo Ci sarà un solo Governo mondiale Se ci sarà Un solo Governo mondiale La Bibbia Non lo afferma Con chiarezza Per la verità Non usa mai Il termine Governo mondiale Però il capitolo 13 Di Apocalisse Di cui Si fa riferimento Nella domanda Ci parla di tre personaggi Per la verità Sono tre bestie Un dragone Che viene identificato In un modo chiaro E preciso Nel capitolo 19 Del libro Dell'Apocalisse Con queste parole Il dragone Che è il serpente antico Il diavolo Satana Dunque Non si può sbagliare Chi è? Ha tutti e tre Termini biblici In una sola frase È lui Il dragone Ha identificato bene Chi è E poi le altre due bestie Che sono un po' Più enigmatiche Una che sale dal male E un'altra che sale dalla terra Queste due bestie Secondo gli studiosi Rappresentano due poteri Straordinari Forti Per le loro caratteristiche Probabilmente Si tratta di una potenza politica E una potenza religiosa La prima bestia Quella che potrebbe rappresentare Una potenza politica Riceve autorità Dall'altra bestia Per 42 mesi Un termine specifico Che sono racchiute Tre anni e mezzo Per fare che cosa? Dice il Capito Per bestemmiare contro Il cielo Contro Dio Contro le sfere celeste Su tutte le nazioni Per far guerra ai santi E anche vincerli C'è questa dichiarazione Che è solenne Che ti fa vincere Questa bestia Vincere anche ai santi La seconda bestia Apparentemente Meno innocua Si dice Nel Capito 10 Aveva le due corna Come un agnello E deve farci riflettere Come un agnello E c'è una certa somiglianza All'agnello Per eccellenza Ma poi Questa bestia Come apriva la bocca Parlava come il dragone Sembrava l'agnello Ma poi Quando parlava Parlava come un dragone Ed esercitava La stessa autorità Della prima bestia Addirittura faceva Grandi segni Faceva scendere il fuoco Dal cielo Questa bestia Deve ordine Di fare un'immagine Della bestia stessa E quando questa immagine È stata fatta Ha dato uno spirito A questa immagine Questa immagine Addirittura parla Parlava E ordinava A tutte le persone Della terra Di adorare Questa immagine E chi non lo faceva Dovesse essere ucciso E poi Tutte le persone Della terra Dovevano essere marchiate Con un marchio O sulla fronte O sulla mano testa Chi non avesse Questo marchio Non poteva Né comprare Né vendere Insomma Possiamo pensare A questo Triunvirato Di malvagità Si riferisca A uno stato Totalitario Che si chiama Nuovo ordine mondiale O con qualsiasi altro nome A poca importanza Quello che È importante Questo trio Coalizzato Assieme È una paradiglia Della divina Trinità Il Il Pensiero di Satana Di Assomigliare A quello che Dio È E ha fatto Che vuole fare Anche lui Come Martino Lutero Lo definisce Che Satana È la scimmia Di Dio Infatti Nell'Apocalisse Questo triunvirato È O questo potere È identificato Come un solo regno Infatti Poi Nelle parole Trionfanti Dell'Apocalisse Si dice così Apocalisse 11-15 Il regno O governo Di questo mondo È divenuto Ad essere Di proprietà Del Signor Nostro E del suo Cristo Che regnerà Nei secoli Dei secoli Vedete Qui non parla Di regni Ma parla Di un solo regno Tutte queste potenze Manovrate Da un unico Artefice Il dragone Il diavolo Rappresentano Agli occhi di Dio Agli occhi del Signore Un solo regno Ripeto Che si chiama Governo mondiale O con altro nome Rappresenta Un buon regno Questo ci fa Pensare Al governo mondiale Che avrà Questo gran potere Negli ultimi tempi Ma però Alla fine Queste bestie Così feroce Così potente E malvagce Saranno sconfitte Da un'agnellina Dall'agnello Di Dio Potente Che toglie il peccato Del mondo E che trionferà Sopra questo regno E regnerà Per i secoli Di secoli Beh Per Daniele Ci rivolgiamo a lui Come un'altra domanda Particolarmente Impegnativa È una domanda Impegnativa Ma che fa Riferimento Anche qui A quello che è Il libro dell'Apocalisse Capitolo 13 Verso 17 E la domanda è questa Quella che aspirano Molti Quelli che credono Molti Quelli che danno Un'empasi Particolarmente Importante A un termine Chiamato ecumenismo Ci sarà Un solo sistema Religioso In tutto il mondo Daniele Noi possiamo dire Che oggi Purtroppo Le religioni Sono tante Ci sono Delle divisioni Ognuno Crede Alla sua religione Ognuno Pensa Di avere La verità E questo Diciamo Certamente Non piace Soprattutto Quando queste divisioni Ci sono anche Nel cristianesimo Perché Il cristianesimo Appunto Dovrebbe rappresentare Cristo E Gesù Ha pregato Che tutti Siano uno Queste divisioni Ognuno Crea la sua Religione Il suo Gruppo Veramente Ci dispiace Anche Tra Evangelici Quando Si creano Questi gruppi Separati Da Un movimento Evangelico E così via Perché A volte Non è Lo spirito Santo Che guida Ma forse L'egoismo Umano Ma al di là Di questo Noi vediamo Che c'è anche Un pensiero Di unità Di unificazione Qualche secolo Fa C'è stato C'è stato Una persona Seria Una persona Importante Che voleva Unire Tutte le Chiese Cristiane E ha iniziato Questo movimento Dell'ecumenismo Ma ben presto Con i decenni Che sono passati Si vedeva Che questa è Una unione Non di credenti Ma un'unione Di religione Di credenti E non credenti E quindi Questo ecumenismo Raggruppava Diciamo I protestanti Anche quelli Che non credono Nella Bibbia Come abbiamo fatto Accendo In qualche altra Trasmissione Chi non crede Nell'ispirazione Della parola Di Dio E così via E allora Si cercava Di avere Una unità Per Diciamo Per forza In ogni modo Si cercava Quest'unità Nell'ecumenismo Cosa è successo Molti credenti Evangelici Che veramente Conoscono La Bibbia Si sono distaccato Da questo movimento E quindi L'ecumenismo Prattivamente Raccruppava Solo Delle persone Che alla fine Forse non credevano Tanto E non era La forza Del cristianesimo Allora Alcuni anni fa È nato Un nuovo movimento Si chiama Crystal Forum Crystal Global Forum E con un'astuzia Molto Saggia Si cerca Di nuovo Di unire Tutte le religioni Tutte quanti Le religioni Cristiane E praticamente Si riesce A coinvolgere Anche Le chiese Pentecostali Le chiese Battiste Le chiese Bibliche Tante persone Vengono coinvolti In questo movimento Che sembra piccola Però ha la sua importanza Di voler Riunificare La cristianità Noi sappiamo Che i cristiani Sono già uniti Perché siamo Il corpo di Cristo Siamo uniti In Cristo Quelli che sono Figli di Dio Hanno lo spirito Santo E sono uniti In Cristo Ma L'organizzazione Non si potrà Mai unire Nello stesso Gruppo di Gesù Ci stava Un discepolo Giuda Che era del diavolo Che lecciamo Che il diavolo Lo possedeva E lo riempiva E praticamente Ha tradito Poi Il Signore Quindi anche In tutte le Organizzazioni Religiose Ci saranno Sempre O più O meno Persone Che non Seguono Cristo E quindi Dio Non vuole Quest'organizzazione Forzata Dell'unità Ma l'unità Che deve estendersi Per una vera fede Nella parola Di Dio Invece poi Come appunto In Apocalisse 13 Vediamo Il falso Profeta La bestia E quindi Stanno Stanno collaborando Vediamo Che c'è Una politica Una religiosità Che Diciamo Comunica Insieme Lavora insieme E veramente Se vogliamo Guardare i segni Del tempo Anche questo È un segno Che dobbiamo Avere gli occhi Aperti A vedere Come procredisce Questo Sforzo Di unità Sia religiose Politiche Poi magari Tutte e due Insieme Siamo passati Alla quinta domanda Voglio rivolgerla Al pastore Michele Passaretti E avverrà Che malgrado La persecuzione O proprio Per quella Il Vangelo Sarà predicato In tutto il mondo Non si potrà dire Io non lo sapevo Sì Uno dei segni Che Ci aiutano A Identificare Il momento A Riscontrare La vicinanza Degli eventi Degli ultimi tempi E' appunto Il segnale Della Predicazione Forse Sarà capitato A più di qualcuno Di avere Un messaggio Che circola Su Whatsapp Di una visione Di qualcuno Che ha visto Gli orologi Senza lancette C'era il messaggio Che diceva E' scoccata l'ora E' arrivato All'ora Cioè Addetta Di chi l'aveva ricevuta Lo spirito Gli comunicava Che era arrivata L'ora Beh Noi lo dicevamo Sin dall'inizio E' un'impresa Del tutto inutile Quella di Identificare L'ora La data Perché il Signore L'ha chiusa Questa rivelazione In più Dobbiamo riconoscere Grazie Alla Bibbia Che ci sono Dei segni Che ci aiutano A comprendere Io Penso Benché la tecnologia Abbia aiutato Molto Nei nostri giorni E quindi Abbiamo Le televisioni Abbiamo Le radio Abbiamo I mezzi tecnologici Più veloci Internet Gli smartphone E quant'altro Quindi la comunicazione E' più veloce Io ritengo Che vi sono Ancora parti del mondo Che non sono state Raggiunte Dall'Evangelo Forse La tecnologia Sta aiutando Da un lato Ma sta Inibendo L'azione Come dire L'evangelizzazione Classica Quella missionaria Di persone Che partono E raggiungono Nuovi territori Per portare L'Evangelizzazione Dobbiamo Dobbiamo dire Il movimento Missionario Forse E' calato Negli ultimi In questi ultimi Anni Cioè nonostante Ci sono aree Geografiche Che hanno Ancora bisogno Di essere evangelizzate Immaginiamoci Tutto il mondo Islamico Benché L'Islam Con la sua aggressività Con la sua violenza Almeno alcuni Aspetti Di questo Di questo ambiente religioso Sta provocando Sì la radicalizzazione Di alcuni Che stanno seguendo Questa scia Ma delle forti crisi Di coscienza In altri Che non riconoscono In questo Il messaggio di Dio Che è il messaggio Della pace Che è il messaggio Della Della grazia E si stanno affacciando Alla finestra Del cristianesimo E molti islamici Si stanno Si stanno accostando A Cristo Ci sono regioni Asiatiche Dove Ancora non sono state Raggiunte Ci sono territori Del mondo Dove l'Evangelo Ancora E questo ci aiuta In qualche maniera A comprendere Che forse ancora Un po' di tempo c'è Non sappiamo quanto Ma questo deve aiutare La Chiesa A far sì Che non rimanga Inerme Non rimanga Immobile Ma che si alzi Per adempiere Il mandato Che è quello Di predicare L'Evangelo Ad ogni creatura Quindi Al di là Delle visioni Degli orologi Senza le lancette Noi sappiamo Che fin quando L'Evangelo Non sarà predicato In tutto il mondo Quindi non avrà raggiunto Tutte le aree Geografiche del mondo Il Signore Pazienterà ancora Perché la volontà di Dio È che tutti gli uomini Siano salvati Beh io vorrei Profittare Per rivolgere un appello A tutti i nostri credenti Di lasciare perdere Di lasciare perdere questi Improvvisi messaggi Di fine Con tutta Una serie Di Delucidazioni Con Profezie Rimaniamo Rimaniamo fedeli Alla parola di Dio Molti Vengono confusi Da questo E molti perdono Anche In un certo modo Non solo confusi Ma ne potrebbero essere Danneggiati Anche psicologicamente Per cui Fidiamoci della parola Del Signore Tutte queste fantasie Che in questi ultimi anni Ne abbiamo sentito Almeno alcune Di queste fantasie Irradiate Mandate Sono semplicemente Delle situazioni Che poi Non risultano Veritiere E la mente Di alcuni Vengono dall'estero Poi vengono manipolate Atteniamoci Alla parola di Dio E come dice La scrittura Anche ricevendo Gli insegnamenti Ricordiamoci Da chi Li abbiamo ricevuti E detto questo Passiamo All'ultima domanda Anche se È breve Il tempo Ma Questa domanda Rivolgiamo al pastore Antonio Romeo La persecuzione Sarà esclusivamente Fisica O si conosceranno Altre forme Di persecuzione Anche più subdole Credo che quando parliamo Di ultimi tempi Che stiamo parlando Proprio di questo Bisogna fare una distinzione Tra persecuzioni E La grande tribolazione La persecuzione Per la Chiesa Per i credenti La Chiesa E i credenti Di ogni epoca Ha subito sempre Sin dall'inizio Anzi L'inizio È stato più forte Abbiamo I martiri Della storia Del cristianesimo Ai tempi Degli imperatori romani Che sono Molto numerose E forti Ma nel corso Della storia Da sempre La Chiesa Ha subito Persecuzione Da parte Di imperi Governi I rei Poteri religiosi Di ogni genere Discriminazione Psicologica Persecuzione Psicologica Morale Fisica Di ogni genere Addirittura Le torture E Persino con la morte Quello che Gesù Disse Beati Perseguitati Per cagione Di giustizia Di questi Gesù Dice che sono Beati E come ogni Nazione Suoi martiri Suoi eroi Il cristianesimo E quello che Ne annovera Più di tutti Nella sua storia Di uomini Che per la fede In Gesù Si sono Fatti uccidere E Questo Purtroppo Ancora In diverse parti Del mondo Esiste ancora Questa Persecuzione O Qui Abbiamo una Discriminazione Possiamo dire In Italia Religiosa Non tanto Una persecuzione Ma una Discriminazione Ma questo Perché Perché gli uomini Vogliono manifestare Il loro odio Verso Cristo E verso i suoi Seguaci Questa è Un'azione Degli uomini Contro Il cristianesimo Contro il cristianesimo Mentre la grande Persecuzione Di cui parlo Agli ultimi tempi È un evento Profetico Nei piani E nei progetti Di Dio Che si verificherà E Secondo le profezie Riguarda Prettamente La nazione Di Israele E sarà Una persecuzione Forte Tremenda Subiranno cose Molto forti Ma questo Giudizio Per Dio Paradossalmente Non è per annientare La nazione di Israele Per distruggerla Ma piuttosto Per farla ritornare a sé Nella storia di Israele Dall'inizio Del Popolo In Egitto E durante il corso Dei secoli Nella storia C'è stato Sempre questo Hanno questa caratteristica Gli ebrei Quando sono sotto Oppressione Sotto persecuzione Allora invocano Dio E sarà così Anche Alla fine dei tempi Saranno Sotto questa grande Persecuzione Ma come dice il profeta Zaccaria Riconosceranno Colui che hanno Trafitto Si umiliaranno E ritorneranno a lui Come il Signore Il Salvatore E lo riconosceranno E Dio risalverà Anche il suo popolo Dobbiamo dire Che questa società Che in maniera Molto naturale Nella realtà nostra Attuale Che in un certo qual modo Si ricordiamo Soprattutto Molti si ricordano Che esiste Dio E della sua parola Solo quando le cose Non vanno bene Nei momenti particolari Ringraziamo Dio Che il Signore Ancora parla Ancora attraverso Suo Santo Spirito E la sua parola A questo punto Non mi resta che concludere Questa trasmissione Con i saluti Pastore Michele Romeo Luigi Loffredo Antonio Romeo Daniele Bachman Michele Passerette E il sottoscritto Vi salutano Ricordandovi La prossima trasmissione Parleremo Dell'Apostasia E dell'Anticristo Dio vi benedica Ciao